Il Covid è un ricordo, anzi no, ma il futuro della sanità, precedentemente stravolta dal virus, permette di guardare con fiducia in prospettiva. È la sintesi dei contenuti della nostra intervista con il direttore generale dell'azienda ospedalire universitaria delle Marche che spiega perché il cittadino può e potrà sentirsi più vicino alla sanità. Il Covid ci ha segnato, ci ha segnato in modo interiore, ci ha segnato in modo esteriore con quello che è successo. Dalle cose negative dobbiamo purtroppo anche molto negative come questa, trarre degli insegnamenti e capire qual è la strategia per il futuro. Sicuramente il Covid ci ha insegnato un rapporto diverso ospedale-territorio, il territorio deve essere fondamentale, il cittadino deve essere sempre più vicino alla sanità e alla salute, anche attraverso i dispositivi medici, gli indossabili, tutti quei parametri che possono essere misurati a distanza. Il Covid in termini di monitoraggio ci ha insegnato molto. Adesso noi dobbiamo continuare a avere paura del Covid o possiamo stare più tranquilli? Vabbè, adesso la situazione è sotto controllo, esistono ancora anche dei cicli vaccinali che sono ripartiti, la situazione credo che possa essere monitorata molto bene, chiaramente incrociamo le dita, non voglio pensare altro, mi pare che gli scienziati della materia ci rassicurino, però sempre allerta, mai mollare l'alerta. Ovviamente l'organizzazione dell'ospedale da questo punto di vista è stata stravolta? Assolutamente, in quel periodo in modo particolare tutti gli ospedali hanno subito uno stravolgimento continuo e ci viviamo ancora i lasciti di quel momento, ci sono delle cose da recuperare, lo stiamo facendo, prestazioni lasciate indietro, soprattutto magari patologie che adesso diciamo cogliamo qualche evento così, sentinella, che ovviamente è indice di quello che non si è seguito prima. Il riferimento è sempre alle liste d'attesa? Ma indubbiamente, questo fa parte diciamo ormai dell'ordinario, il recupero sulle liste è continuo, noi ce la mettiamo tutta, abbiamo anche delle prestazioni aggiuntive da fare entro l'anno, quindi ce la mettiamo tutta e faremo del nostro meglio. Qual è il messaggio da rivolgere al cittadino che ha perso un po' la fiducia? Ma no, fiducia non bisogna mai perderla, siamo tutti nello stesso sistema, siamo tutti sulla stessa barca, bisogna aiutarci, il cittadino deve anche comprendere che è stato un momento difficile, però mai perdere la fiducia. Grazie.